Buonasera, ben ritrovati dallo Sport City per la quarta giornata di campionato dove l'Eurobet affronta il proprio passato il Professione Casa in cerca ancora della prima vittoria stagionale del numero 9 del Professione Casa con il calcio d'angolo, gli sviluppi e c'è il gol del vantaggio immediato il Professione Casa non aspetta tempo, si porta subito sull'1-0 grazie al colpo di testa di Ferrante sul calcio d'angolo al primo minuto, Professione Casa 1 Eurobet 0 con Bertini che porta palla, si cerca ora Cafforio che controlla, gli entra su desto Cafforio si accentra, Cafforio prova la conclusione dalla distanza, lambisce il palo alla destra di Marsi sulla battuta sia Angele che Cafforio, ora Angele si defila, rimarrà sicuramente Cafforio difesa 3, parte il numero 10 in questo istante, la conclusione e la deviazione determinante si è il gol del pareggio sulla respinta, Bombera Polloni trova lo spunto giusto col Mancino volè Mancino appunto del numero 9 che trova il gol del pareggio dopo la corta respinta di un difensore non del portiere proprio sulla conclusione di Cafforio dunque allo Sport City ristabilito il pareggio 1-1 alla rete di Ferrante risponde così la volè Mancina di Apolloni si parte ora la palla che esce, va da parte del numero 28 Michelini prova ad aprire il gioco intelligentemente, palla ancora per Apolloni lo scambio vincente, 1-2 determinante di Apolloni che porta la squadra sul 2-1 rimonta clamorosa dell'Eurobet grazie allo scambio tra Michelini e il proprio esterno palla precisa in aria per il piattone del numero 9 che ristabilisce dopo la parità anche il vantaggio dell'Eurobet ancora l'attaccante Ferrante Asolo, palla ancora per Nucci, palla che viene toccata da un difensore e il direttore di gara concede il penalty Ferrante contro Caperchi, tutto pronto, fischiore il direttore di gara, parte il numero 9 la conclusione è il gol del pareggio, 2-2, doppietta per i due bomber in maglia numero 9 la doppietta di Apolloni da una parte e quella di Ferrante dall'altra, ristituiscono il pareggio tocca Fogler, mette in movimento il numero 28 però è bravissimo Iatarola a fare copertura, ancora palla per Angeli, lo scambio per De Marco in aria da solo il destro di De Marco deviato, palla in aria per De Marco, deve girarsi De Marco la conclusione toccata da un difensore e sarà ancora calcio di rigore per l'Eurobet il tocco di mano del difensore centrale che si va a prendere anche l'ammunizione non si tratta però di Iatarola, fischiore il direttore, parte De Marco la conclusione parata e poi il gol, la palla che si deposita in rete aveva intuito la traiettoria Marsi che tocca anche ma il pallone termina in rete il vantaggio dell'Eurobet 3 a 2 siglato da De Marco su rigore che se lo procura e lo trasforma ora Migliarelli, l'anticipo di Mirko La Rosa serve De Marco che prova la palla e percussione il gol del 4 a 2 di numero 18 Messina, bellissimo l'anticipo di Mirko La Rosa che serve De Marco che serve poi a sua volta l'assist vincente per Messina determinante l'ingresso in campo di De Marco che si procura il gol del 3 a 2 sul rigore e poi regala l'assist del 4 a 2 per Messina lo scambio con Bertini va per via centrali da solo, Bertini prova il cross in aria, Angele di testa 5 a 2 magia di Angele, ottima la pennellata però di Bertini un pallone perfetto in aria e la spizzata di testa di Angele che sigla il 5 a 2 allo Sports City termina qui, triplice fischio allo Sports City l'Eurobet trova la prima vittoria stagionale 5 a 2 sul professione casa e il cambio in panchina sembra aver giocato per i ragazzi del presidente Cencetti buona partita a cui tenevamo tantissimo che comunque tutti sanno la nostra storia, venivamo dal professione abbiamo giocato finalmente da squadra, cattivi, uniti e poi comunque le individualità, le qualità ci sono e piano piano stanno uscendo fuori per quanto riguarda Filipponi ci dispiace molto soprattutto per la persona, l'abbiamo visto oggi in campo e ci dispiace tanto però il presidente ha deciso così e pazienza